L'acqua distribuita dal Ruzzo ai Terramani è tra le più buone d'Europa. Controllata ed analizzata in ogni momento dalla Ruzzo Reti e dall'Arta, è sempre risultata essere potabile anche in seguito all'ultimo incidente di bassissima contaminazione con il diclorometano, verificatosi al punto di captazione nei pressi del pozzetto dei laboratori del Gran Sasso. Il fatto poi che l'evento non sia stato comunicato ai cittadini non contravviene la legge che prevede che l'utenza venga informata solo in caso di minaccia imminente per la salute umana. Sono questi i punti principali che il presidente della Ruzzo, Antonio Forlini, ha voluto approfondire per eliminare dubbi e paure dopo il servizio televisivo delle Iene. Intanto la bontà della nostra acqua. Eccellente. Io bevo acqua quotidianamente dai rubinetti e vi assicuro che la nostra acqua è tra le migliori d'Italia. Perché non avete informato anche di questo piccolo sversamento i cittadini? Allora, intanto perché a nostro modo di vedere non esiste un obbligo di legge in tal senso. E ritenevamo, in verità, questa cosa noi non ci abbiamo neanche pensato. Proprio perché per noi è normale che se capita qualsiasi problema, una sorgente, noi siamo ovviamente obbligati a mettere fuori uso quella sorgente, a fare tutti gli accorgimenti che possano poi ripristinarla in fretta e a integrarla in altra maniera. Non è che avvisiamo la popolazione di qualsiasi problema che abbiamo nella gestione dell'acquedotto. Però questo piccolo incidente c'è stato. Non pensate di chiedere una maggiore messa in sicurezza ai laboratori? Questo certamente sì. Anzi, è stata la prima cosa che abbiamo sottolineato ed è la cosa che noi ci aspettiamo, la regione faccia, perché poi noi siamo il soggetto gestore, ma in realtà le captazioni sono di proprietà pubblica, di proprietà regionale. È la regione che deve e può e ha il potere per obbligare sia il gestore autostradale che il laboratorio a completare le opere che forse all'epoca non sono state completate dalla messa in sicurezza e a migliorarle perché seppur piccolo e banale questo incidente c'è stato e quindi bisogna fare in modo che non si ripeta. In sintesi, l'obiettivo che si pone la Ruzzo Reti sarà quello di rendere sempre più compatibili tra di loro tre elementi che non potranno mai essere soppressi. Il traffico autostradale della 24, gli esperimenti dei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la captazione dell'acqua dal Gran Sasso. Per quanto poi riguarda l'intervista realizzata dalle Iene, Forlini annuncia che ha dato mandato all'ufficio legale per citare in giudizio gli autori del servizio televisivo per danno d'immagine e procurato allarme. Insomma, la nostra acqua è buona e la possiamo bere? Certamente sì.